Quando il figlio suo le dona una grande immensa, come una famiglia, Gesù chiede a Maria di essere madre. La madre di Dio diventa la madre dei figli di Dio, dei fratelli per cui Cristo è nato, ha vissuto e morto, per quanti ha redento o donato del sangue che lui stesso ha ricevuto da quella donna. Il sangue che ora bagna la croce, come pioggia che rende la terra madre nuovamente feconda.